La stampa delle grandi occasioni a Interzum nel corso della conferenza di Egger. Il gruppo austriaco si è presentato alla manifestazione di Colonia con dei risultati assolutamente ineccepibili e un incremento di fatturato e di posizionamento nei diversi mercati mondiali di prim'ordine che molte aziende possono invidiare. La presentazione dei nuovi prodotti ha sottolineato l'impegno di ricerca e sviluppo di Egger che sta portando i suoi frutti in questi ultimi anni, manifestando una presenza sempre crescente nei diversi settori e nelle diverse merceologie, sempre caratterizzato da una forte carica di innovazione, di prodotto e processo.